A We Love Coffee trovi cialde e capsule compatibili con vari sistemi, macchine da caffè, aromatizzati, marmellate e succhi di frutta bio, biscotti artigianali ed in esclusiva la cioccolata militare. We Love Coffee è a Cava dei Tirreni in via Vittorio Veneto 136. Prima nella classifica che conta, ma anche in quella dei giovani. È il merito che sta conquistando la Cavese, che ha 65 punti nella serie D Girone H, con lunghezze di vantaggio sulla seconda forza, ed è anche la società che ha riportato più punti nel progetto giovani di valore. Sono 1.085. C'è invece un ex equo per quanto riguarda il secondo posto, conteso tra Fasano e Martina, che hanno totalizzato ciascuna 749 punti. Le classifiche si contano fino alla ventottesima giornata di campionato per i gironi a 18 squadre e considerano le presenze riportate dai giovani atleti under nati dal 1 gennaio 2002 in poi, che abbiano sottoscritto il tesseramento da più tempo. Il primo premio per ciascun girone ammonta a 25.000 euro, il secondo a 15.000 euro, il terzo a 10.000 euro. La fortuna, tra virgolette, che ha avuto la Cavese è che il lavoro iniziato già nella precedente gestione societaria, con la formazione dei calciatori fin dalle giovanili, ha portato alcuni elementi di proprietà a essere inseriti in prima squadra già dalla scorsa annata di Serie D. Prima Fabio Palladino, poi Francesco D'Amore, poi Mattia Maffei, tutti i terzini sinistri che avevano già giocato nella formazione primavera tre degli Aquilotti. E poi è stato travasato in prima squadra per la prima volta in questa stagione Alessandro Lombardi, classe 2005, centrocampista offensivo, che ha debutato contro il Molfetta in campionato. A Cava sono rimasti anche D'Amore e Maffei, e non va dimenticato nemmeno Anzano, che era stato schierato titolare in alcune partite di campionato di questa stagione. Tutti quanti sono stati presi prima del 2020 nel settore giovanile. Nelle gare di Coppa Italia di Serie D si era visto inoltre un altro giocatore del 2004, l'attaccante Ciro Cuomo, poi ceduto in prestito al Vico Equense, ma la Coppa non conta se non ai fini della pura esperienza. Anche con Alessandro Lamberti in veste di presidente, la Cavese ha guardato avanti. E sta riuscendo a conciliare questo obiettivo anche con quello di arrivare al primo posto e ottenere la promozione in C. Per la graduatoria definitiva occorrerà aspettare un mese. Il club Aquilotto vede la possibilità di accaparrarsi il primo premio, dopo che l'anno scorso aveva conseguito il secondo premio.